ok buongiorno a tutti questo è sony digital camera z v1 si è aperto solo dopo cinque mesi che ho comprato quindi iniziamo ad aprire vediamo cosa c'è dentro allora dentro c'è questo qua la memoria con 64 giga e poi questo è il shooting grip compreso nel kit si chiama cyber shot vc t sg r1 e questo è la fotocamera poi ho comprato pure gli accessori extra battery quello qua andiamo a vedere ok questo sono tre batterie più il caricatore e poi questo qua è proteggi schermo così per proteggere la fotocamera ok adesso apriamo la camera vediamo cosa c'è dentro allora questi sono i foglietti distruzione la fotocamera la sony z v1 wow questo è questo qua allora vediamo le cose che stanno dentro la scatola allora questo è il microfono il caricatore usb e la batteria allora adesso iniziamo a mettere la batteria questo qua open ok adesso iniziamo a montare i pezzi e mettere le cose dentro allora sto mettendo questo qua dentro che poi la batteria così vediamo poi vediamo un po' facciamo un setup inglese grazie 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 ok questo qua allora vediamo questo è una fotocamera leggera che con lo zoom aperto questo qua sarebbe il massimo questo si può aprire così e girarlo così tornare indietro adesso vediamo questo qua che si mette qui così adesso montiamo lo schermo potenti schermo ho comprato ok 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 vediamo un po' di questo per levare qua questo ci sta una cosa che questa è la parte di scritto ma è così è così ok ok e voilà schermo messo adesso adesso apriamo questo qua il shooting grip quindi questo si può usare con qualsiasi sony che hanno la dimensione così vedete vedete si chiama sony shooting grip ok andiamo a aprire ok 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 dentro ci sta questo qua sarebbe dove si mette dove si mette il grip ok con la corda questo e il grip questo che si carica il caricatore così 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 sony vct shooting grip questo qua questo sarebbe si mette qua sopra farlo girare ok così ok 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 allora per favore fate subscribe sul mio canale andre sofia twins channel e faccio altri unboxing ciao 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 ciao